Quanto stai in vacanza? Circa un mese. Chi conosci in quella scuola? Solo Luca. Quanta gente è venuta alla tua festa? Da quanto abiti qui? Da cinque anni. Qual è il tuo cibo preferito? La pizza. Che lavoro fai? Faccio l'insegnante. Quando hai finito la scuola? A 18 anni. Quanti di voi vanno al cinema domani? Quando ti svegli la mattina? Alle sei e mezza. Quanto costa un caffè? Due euro e cinquanta. Quanti animali hai? Un cane e due gatti. Dove abiti? A Venezia? No, abito a Milano. Come trovi i nuovi vicini? Sono simpatici. Quali libri stai leggendo ultimamente? No. Quanti di voi passeranno le vacanze in Italia? Quando ti svegli la mattina? Molto presto. Quanto costa questo libro? 40 euro. Quanti figli avete? Un maschio e due femmine. Dove abiti a Madrid? No, abito a Lisbona. Come trovi i tuoi colleghi? Sono simpatici. Quali progetti sta realizzando la tua ditta? No. Quanto durerà il film? Circa un'ora e mezzo. Chi conosci a questa festa? Solo tuo figlio. Quanta gente è venuta all'inaugurazione? Da quanto abiti qui? Da cinque anni. Qual è il tuo sport preferito? Il calcio. Che lavoro fai? Faccio l'insegnante. Quando hai cominciato a lavorare? Avete perso molti documenti. Ogni libro deve stare in ordine. Devo risolvere alcuni problemi. Devo risolvere alcuni problemi. Oggi non ho visto nessuno. a scuola, tutti vanno d'accordo. A scuola, tutti vanno d'accordo. Dopo mi bevo un altro caffè. Nel libro ci sono molti sbagli. I dipinti qui sono di tante epoche. Abbiamo troppe piante in casa. Abbiamo troppe piante in casa. Fino a stasera ho molto da fare. Non ho trovato nessun traffico. Ci siamo visti alcuni mesi fa. Chi? Chi non cucina, poi lava i piatti. Che? Mi piace il vestito che hai preso. Il quale? Luca, il quale è mio amico, è alto. Che? Ecco gli amici che mi aiutano. Chi? Chi vuole partecipare e si iscrive. La quale? L'uva, la quale è buona, fa bene. La quale? La quale? Ecco Lisa, la quale è molto bella. La quale? L'auto, la quale è qui fuori, è rotta. Luca, a cui ho detto tutto, è qui. Chi? Non mi piace chi è antipatico. Chi? 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 So chi ha fatto questo dipinto. Chi? Chi? Il cane che ti inseguiva è mio. Chi? Chi? Lei è Lisa, di cui sono molto poco. Il quale? Vado dal nonno, il quale è a casa. Chi? Parliamo con chi ci ascolta. Che? Oggi c'è la festa che mi piace. Chi? Non ho visto chi è andato via. La quale? Lo dico a lei. La quale non sa nulla. Volere. Io voglio. Tu vuoi. Lui, lei vuole. Loro vogliono. Loro vogliono. Potere. Io posso. Tu puoi. Lui, lei può. Noi possiamo. Voi potete. Volevano. Loro possono. Io volevo. Tu volevi. Lui, lei voleva. Noi volevamo. Voi volevate. Volevano. Volevano. Io potevo. Tu potevi. Lui, lei poteva. Noi potevamo. Voi potevano. Loro potevano. Dovere Io so Tu sai Lui, lei sa Noi sappiamo Voi sapete Loro sanno Io dovevo Tu dovevi Lui, lei doveva Noi dovevamo Voi dovevate Loro dovevano Io sapevo Tu sapevi Lui, lei sapeva Noi sapevamo Voi sapevate Loro sapevano Io voglio andare al cinema Tu che cosa vuoi fare? Noi vogliamo fare la spesa Voi volete preparare la cena Claudio vuole alzarsi presto Lei vuole essere a casa alle 8 Le mamme vogliono uscire Lui non vuole uscire stasera Io voglio studiare la lezione Tu vuoi fare gli esercizi Noi vogliamo andare al mare Voi volete venire con noi I cani vogliono stare fuori Mia nipote vuole un libro Io voglio guidare l'auto Io voglio guidare l'auto Noi vogliamo essere puntuali Gli studenti vogliono le vacanze Tu vuoi sempre mangiare Il cameriere vuole la mancia Non vogliamo stare dentro casa L'autobus vuole parcheggiare Italia Io sono italiano Germania Io sono tedesco Brasile Io sono brasiliano Spagna Io sono spagnolo Argentina Io sono argentino Stati uniti Io sono statunitense Francia Io sono francese Grecia Io sono greco Svizzera Io sono svizzero Marocco Marocco Io sono marocchino Regno unito Io sono inglese India Io sono indiano Romania Io sono rumeno Albania Io sono albanese Polonia Io sono polacco Messico Io sono messicano Russia Io sono russo Senegal Io sono senegalese Venezuela Io sono venezuelano Ucraina Io sono ucraino Austria Austria Io sono austriaco Austria Io sono austriaco Io sono serbo Algeria Io sono algerino Algeria Io sono algerino Belgio Io sono belga Colombia Io sono colombiano Olanda Io sono olandese Canada Io sono canadese Malesia Io sono malesiano Tunisia Io sono tunisino Corea Io sono coreano Turchia Io sono turco Bosnia Bosnia Io sono bosniaco Io sono bosniaco Perù Io sono peruviano Io sono peruviano Cile Io sono cileno Egitto Io sono egiziano Georgia Io sono georgiano Libano Io sono libanese Slovacchia Slovacchia Io sono slovacco Australia Io sono australiano Cecchia Io sono ceco Portogallo Io sono portoghese Slovenia Io sono sloveno Thailandia Io sono tailandese Sono di Napoli Vengo da Napoli Vengo da Napoli Vengo dall'Italia Questa casa è di Paolo Queste auto sono della Tesla Questo vestito è di due anni fa Questo treno viene da Milano La mia amica viene da casa sua Vorrei bere qualcosa di fresco Vorrei qualcosa da bere Non ho niente da fare Non ho niente da fare Ho una casa piena di libri La frutta è ricca di vitamine La macchina è guidata da lui Vado via di qua Vado via da qui Usa dei tovaglioli di carta Gli ho detto di fare silenzio Vado a scuola di mattina Da domani sarò in vacanza Quella giacca è di Claudia Uno Primo Due Secondo Tre Terzo Terzo Quattro Quarto Cinque Quinto Quinto Sei Sesto Sette Settimo Otto Ottavo Ottavo Nove Nove Nono Dieci Decimo Hai comprato gli spaghetti? Sì Sì Li ho comprati Hai letto il giornale? No Non lo ho letto Hai pulito la tua stanza? Sì La ho pulita Hai fatto l'aperitivo? No Non lo ho fatto Hai buttato le cose vecchie? Sì Sì Le ho buttate Hai venduto i vestiti? No Non li ho venduti Hai invitato i tuoi amici? Sì Li ho invitati Chi ha chiuso le finestre? Le ho chiuse io Chi ha cucinato la pizza? La ho cucinata io Avete mangiato le mele? Sì Le abbiamo mangiate Hanno perso le chiavi? No Non le hanno perse Avete ascoltato la lezione? Sì La abbiamo ascoltata Hanno letto i libri? No Non li hanno letti Avete sentito la notizia? Sì La abbiamo sentita Hanno guidato l'auto? No Non l'hanno guidata Abbiamo pagato il conto? Sì Lo abbiamo pagato Sì 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 Sì